Ciao, siamo Margherita e Pierluigi, rappresentanti ai studenti per Roma 3 nella Rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile. Il 16 di febbraio Roma 3 azzerirà l'iniziativa Mi Illumino di Meno, la campagna di Rai Radio 2 e Caterpillar, per incentivare il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. E promossa anche dalla Rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile. Questa edizione 2024 è intitolata No Borders, ossia Insieme Senza Confini, per condividere con amici e colleghi questa iniziativa anche a livello internazionale. Noi abbiamo deciso di coinvolgere i studenti Erasmus Incoming, chiedendo loro di sensibilizzare le loro università di provenienza sul risparmio energetico. Il nostro Ateneo è da tempo impegnato nel diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse e parteciperà a questa iniziativa con una campagna di sensibilizzazione e spegnendo le luci del Rettorato tutta la sera del 16 di febbraio. Partecipa anche tu all'iniziativa Coro Madre. Spegni le luci non indispensabili. Grazie a tutti.